Sono particolarmente emozionato e felice di prendere parte a questo evento che si terrà in gennaio a Bologna, che unisce due amici, uno personale che è Ezio Bosso, che è un mio carissimo amico da oltre vent'anni, e Claudio Alvato, che tutti noi conosciamo e di cui rimpiangiamo la perdita. Si tratterà di Il piedino e il lupo, una favola per bambini, per grandi e piccini, che spero vi avvieterà e che vi unirà in tanti nel teatro di Bologna. Grazie a tutti.